Raduno Auto e Moto Storiche a Cardinale, domenica 9 giugno 2024. Il club ACS Auto e Moto Storiche Chiera Valle Centrale, affiliato a ACI Storico con grande impegno e collaborazione da parte del direttivo e dei soci, ha concluso anche questa meravigliosa passeggiata ecologica in una mattinata di giugno prettamente estiva, con visita dei paesi limitrofi Torre di Ruggero, Cardinale e didattica presso la fattoria Rotiroti. La passione vintage per il motorismo e per i veicoli storici è sempre più diffusa anche nella nostra regione e questo fa sì che sempre più appassionati si avvicinano al nostro mondo e al nostro club, facendolo diventare un punto di riferimento importante e apportando nuove adesioni al club. I nostri sponsor speciali hanno aderito in toto facendone subentrare altri. I raduni, come da calendario, sono stati rispettati con successo e, vista la richiesta di alcuni soci, altre uscite sono state integrate. Il club ha sempre fermamente sostenuto che il nostro cammino è la ricerca delle bellezze naturali dei borghi, dei luoghi, dell'arte e della storia del nostro passato, per vivere bene il nostro presente e proiettarci nel futuro a cavallo dei nostri veicoli storici, che la nostra scuderia detiene. I successi ottenuti a livello locale, provinciale e nazionale sono il frutto della vostra disponibilità, poiché arricchite me con la vostra preziosa presenza, dialogo costruttivo con belle parole, strette di mano e con abbracci fraterni che nascono dal cuore ed io, con il cuore, vi dico grazie di essere sempre presenti e di essere portatori di gioia nella vita pulsante del club. Vi lascio un saluto con affetto e stima, la vostra presidente Biancarosa Cappialbi.